Buongiorno a Mass Night, è la prima sera o avete già sperimentato la settimana scorsa? Prima sera Dove vi dirigete? Verso il piazza Statuto, quindi più chiamato l'1 L'attesa? Da quanto tempo aspettate? Noi siamo arrivati a 5 minuti, però dicono tipo una mezz'ora, quindi siamo fiduciosi Siete dotati di biglietto? Sì Avete biglietto dietro? Sì, buonamente Non siete dotati? Ecco, sì, volevo capire se avesse un abbonamento oppure usufruisse di un biglietto Ho anche gli abbonamenti mensili e settimanali miei e di mia mamma Posso sempre sfruttare qualunque situazione La mamma non utilizza il bus night ma utilizza il trasporto pubblico normale Che vi pare dell'idea, l'iniziativa, l'ha approvata? L'idea è ottima, è ottima, anche perché spesso con amici che abitano fuori vengono in centro Quindi sono costanti a prendere il taxi e così risparmierebbero anche È una proposta sperimentale che cosa pensereste nel caso fosse invece promossa poi tutto l'anno? Allora, io sono assolutamente d'accordo con la serie di motività Perché favorisce il fatto che noi giovani possiamo muoverci senza macchina Che risolve il problema del parcheggio, risolve quello della guida a stato di prezzo E soprattutto dal punto di vista ambientale è sicuramente meglio perché Usi dei pullman che sono comunque, almeno questi, in parte, almeno sicuramente più ecologici delle macchine E poi io ho vissuto a Londra, insomma, lì ti muovi assolutamente senza macchina E qui invece è essenziale Se quindi si può fare qualcosa in quel senso, che ben venga Grazie